Amici e amiche di Player Inside, bentornati alle consuete news della settimana. Una notizia importante, giorno 18 giugno 2023, ovvero domenica prossima, dalle 18 alle 23, ci troverete a Catania presso Spidey Beat, con una serata veramente speciale che abbiamo organizzato per voi insieme appunto a Spidey Beat, che è il locale che ci ospite, che gestisce la cosa. Ci sarà da divertirsi perché sarà fondamentalmente un mint and greet, però ci sarà anche annunci lolly live, ci divertiremo con chiacchiere, saremo proprio in mezzo a voi, non con delle transenne, come è necessario fare in delle fiere del fumetto o altro. Ci sarà anche la musica del nostro John Lewis, insomma, una bella serata e potrete venire quando vorrete, tra le 18 e le 23, nel senso che se venite già a partire dalle 18 vi godete tutta la serata, ma se venite alle 22 e 30 ci trovate comunque fino alle 23, che poi sempre noi ci tratteniamo un po'. Vi aspettiamo quindi, signori, e se siete di fuori Catania, ai primi 20 che vengono da fuori Catania, la consumazione obbligatoria la pago io personalmente, perché ho piacere di vedervi. Quindi se uno viene, che ne so, da Bolzano, ma anche da Agrigento, Raiden, cominciamo con le news. Stasera, 11 giugno, alle ore 18 e 30, ci troverete in diretta per seguire l'Xbox Showcase. È un evento molto importante, della durata di circa due ore, che includerà anche un inserto dedicato a Starfield, chiamato appunto Starfield Direct. Speriamo nella presenza anche di Hellblade 2, Forza Motorsport, ma sì, sogniamo magari anche a Vaud, di Obsidian e Fable, anche perché di quest'ultimo le voci di corridoio riguardo alla sua presenza aumentano. Quindi mi raccomando, ci troverete già a partire dalle 18 e 30 al link che trovate nel commento in evidenza. Ieri si è tenuto il Future Game Show, un evento più che onesto e dal buon ritmo, che ha mostrato molte produzioni minori in sviluppo e in uscita. Tra quelle che ci hanno colpito di più segnaliamo il nuovo trailer di The Lords of the Fallen, che probabilmente era il gioco più grosso presente all'evento. Il trailer mostrava svariate fasi di gioco e diversi boss, tra cui la sorella perduta di Malenia. Anche Cookie Cutter ci ha colpiti, una sorta di stiloso metroidvania colorato e ultraviolento in uscita quest'estate solo su PC. Intrigante lo stile in stop motion di The Spirit of the Samurai, definito dagli sviluppatori come un'avventura cinematografica ispirata alla mitologia giapponese, prevista per PC, PS5, Xbox Series X ed S, ma senza ancora una data. E poi c'è Enchanted Portals, che è il clone spudorato di Cuphead. Sembra Cuphead rallentatore, Cuphead easy mode. Somiglia così tanto a Cuphead che anche al video ufficiale YouTube lo scambia per Cuphead. Mi piacerebbe una cosa? Cuphead. Aiuto, questa è bellissima. E noi ovviamente lo giocheremo anche solo per il meme. O magari è anche meglio di Cuphead. Come sappiamo, durante l'ultimo Summer Game Fest Ubisoft ha mostrato Prince of Persia The Lost Crown, un nuovo Prince of Persia in 2D, 3D, che è anche un metroidvania. Ebbene, il pubblico sarà stato entusiasta? No, non è piaciuto praticamente a moltissimi. Cioè Ubisoft come la fa, la fa, sbaglia. Infatti il 75% dei dislike è stato apposto al video ufficiale del gioco. Ubisoft si trova sicuramente in una situazione precaria, in una situazione quantomeno delicata, se così vogliamo definirla, perché effettivamente sembra non stia riuscendo a far piacere ciò che fa. Sembra non stia riuscendo ad essere vicina ai suoi consumatori che un tempo sì la deridevano per i bug, Ubisoft e tutte queste cose qua, ma che adesso quasi la scherniscono e non la sopportano più. Stando ai dati di vendita forniti dall'analista di Sircana Matt Piscatella, gli abbonamenti digitali videoludici, compresi il Game Pass, sarebbero cresciuti nel 2023 soltanto del 2%. E in buona sostanza è una fase di stallo quindi rispetto al 2022 in cui la crescita invece era stata maggiore. Non parliamo del 2021 e del 2020, soprattutto in prossimità dell'uscita di Xbox, RX, S e di PlayStation 5. Questo che cosa ci fa capire? Finite le persone a cui è possibile vendere un servizio in abbonamento e che però possiedono anche la console, non si riesce molto facilmente a vendere tale servizio, il Game Pass appunto, a persone che non abbiano questa console e quindi non sentano un legame diretto con la piattaforma e con i servizi ad abbonamento ad essa legati. Svelati i dati di vendita hardware e software per il mese di maggio per l'Europa. Per quanto riguarda l'hardware, al primo posto abbiamo prevedibilmente Nintendo Switch seguita da PS5 e dico prevedibilmente perché al primo posto dei giochi più venduti c'è chiaramente Tears of the Kingdom. Al secondo posto troviamo Hogwarts Legacy, al terzo udite udite FIFA 23. Guardando la top 10 mi ha stupito comunque trovare in classifica ancora dei titoli Ubisoft usciti non proprio ieri, come Far Cry 6 al sesto posto e The Division 2 al decimo posto. Hogwarts Legacy finalmente disponibile in versione di prova, quindi demo, su PlayStation Plus Premium. E qui ci sarebbe un attimino da discutere. Attenzione, i nostri attacchi non sono mai contro Sony, contro Microsoft, contro Nintendo, ma contro le cose storte in generale. Quindi essere tacciati di faziosità o di essere di parte solo perché uno se la prende per dei motivi obiettivamente contestabili mi sembra severo nei nostri confronti, mi sembrerebbe severo nei nostri confronti. Quindi, la demo di Hogwarts Legacy dura soltanto 45 minuti ed è disponibile su PlayStation Plus Premium solo dopo diversi mesi dall'uscita di Hogwarts Legacy e un mese dall'uscita della versione PlayStation 4, ovvero le versioni all-gen. Questo ci fa capire che le promesse iniziali di Sony riguardo la gestione di queste versioni dimostrative a tempo siano state quantomeno in parte disattese. Anzitutto, non è che ci siano le demo di prova prima che il gioco esca o in concomitanza dell'uscita del gioco, ma dopo diversi mesi. E questa non è una cosa eccezionale, soprattutto considerando che uno dovrebbe provare il gioco anche in anticipo. Ma siccome si tratta di trial version a tempo, per cui ci può stare anche che escano queste benedette demo in concomitanza con l'uscita del gioco, ma non dopo tutti questi mesi. Inoltre, 45 minuti è la durata di demo del gioco Hogwarts Legacy, il che cozza con la premessa iniziale di Sony, secondo cui tutti i giochi avrebbero dovuto avere un tempo di prova nella demo di PlayStation Plus Premium di due ore. Infatti abbiamo visto che anche altri giochi non sono stati messi a due ore, ma anche un'ora, insomma, strategicamente a seconda anche della lunghezza del gioco. Ma un Hogwarts Legacy, che dura abbastanza, due ore me lo potevate mettere. O no, ragazzi? Probabilmente Atlus voleva farci una sorpresa, magari all'Xbox Showcase di oggi, ma purtroppo sono stati trafugati in anticipo i trailer del remake di Persona 3 dal titolo Persona 3 Reload, previsto a quanto sembra per l'inizio del 2024, e di Persona 5 Tactica, un altro spin-off di Persona 5, che in sostanza è un tattico con i personaggi chibi, in uscita il 17 novembre di quest'anno. E entrambi, secondo questi leak, dovrebbero essere inclusi nel Game Pass. Ovviamente, se ciò dovesse essere vero, ne avremmo conferma, forse, stasera all'evento Xbox. Diablo 4 è il gioco Blizzard che ha venduto più velocemente di tutti gli altri giochi Blizzard di tutti i tempi. E i giochi Blizzard vendono sempre tantissimo perché hanno molta fidelizzazione e creano anche una nuova fanbase. Detto questo, però, i videogiocatori si stanno lamentando dei prezzi delle armature per le cavalcature, per i cavalli, che sembrano ricordare un po' lo scandalo, tra mille virgolette, capitato a Bethesda quando aveva messo a circa 3 euro le armature per i cavalli di Oblivion. Li abbiamo visti anche noi, ero tentato di acquistarne qualcuna per sfoggiare una bella armatura per il mio cavallazzo e effettivamente poi ho detto, inchia, sai che c'è? Meglio dopo. Fatto sta che a comandare poi sono i dati di vendita ed effettivamente gli utenti stanno acquistando in grandi quantitativi queste armature e queste skin per i personaggi. Ma sempre a proposito dei cavalli di Diablo 4, i giocatori li stanno trovando veramente pessimi. Sembra che il cavallo in effetti abbia problemi a spostarsi nel terreno, poiché sembra si incastri con elementi presenti sulla mappa come per esempio alberi o rocce. E questa sì che, a differenza delle skin, che ognuno le mette a quanto vuole, e semmai non le acquistiamo, invece questa sì che è una cosa che deve essere fixata. In settimane è stato presentato l'Apple Vision Pro, che costerà 3499 dollari. No, un attimo regia, per quanto la notizia sarebbe potuta finire qui, in effetti è giusto continuare a parlarne per spiegarne le caratteristiche. Perché costi così tanto? Già. Effettivamente sembra una macchina pazzesca, perché formalmente è un visore per la realtà aumentata. Permetterà di utilizzare occhi, mani e voce per interagire con tante applicazioni che potranno essere posizionate intorno a noi. Un po' in stile Minority Report. È possibile anche creare ambienti virtuali attorno a noi e ruotare anche gli elementi 3D. Supporta l'abbinamento con Mac, iPad e iPhone e permetterà di essere nella stessa stanza di chi è in collegamento con noi. Ci sarà una modalità cinema che permetterà di regolare la grandezza dello schermo e di diminuire la luce ambientale. Tecnologia EyeSight per continuare a vedere gli occhi di chi sta usando il Vision Pro e a permettere a chi sta usando il Vision Pro di guardarsi attorno anche nel mondo reale, oltre che quello in realtà aumentata. E sarà possibile anche usare i giochi di Apple Arcade. 23 milioni di pixel in due pannelli, risoluzione di 4K con HDR, microfono sensibile come una madonna, un nuovo sistema operativo Visual OS costruito sulle basi degli altri sistemi operativi di Apple e poi Optic ID e Fovited Render. Annunciati i giochi gratuiti offerti dall'Epic Game Store a partire dal 15 giugno, si tratta di Guacamelee Super Turbo Championship Edition e Guacamelee 2. Entrambi al solito potranno essere scaricati senza alcun abbonamento. E adesso la sottorubrica delle news della settimana preferita da tutti, ma in particolare da quelli che hanno già prenotato Apple Vision Pro. Bravi, sono orgoglioso di voi. Fatemi sapere che lavoro fate, di legale però. News al rapido. Si ritorna a non fottere con Nintendo. Valve ha deciso di rimuovere l'emulatore Dolphin da Steam per evitare di fottere con Nintendo e di entrare in dispute legali con la compagnia nipponica. Cioè, in realtà, la querela Nintendo non l'avrebbe fatta neanche a Valve, ma agli sviluppatori di Dolphin che quindi avrebbero dovuto rimuovere l'emulatore da Steam. Ma addirittura Valve ci ha pensato, lei ha detto no, no, non vogliamo mica fottere tutti con Nintendo, eh. Non abbiamo abbastanza culi per fottereci tutti. Doc Burford, lo sviluppatore di Adios, ha dovuto dare degli idioti ai videogiocatori che stavano contestando non tanto il suo gioco quanto Microsoft che l'ha reso disponibile gratuitamente in Games with Gold. Però i giocatori hanno contestato il gioco per la serie Perché Microsoft mette tutti questi giochi che sì, carini, però non mette Jurassic World Evolution 2? È vero che tanti ragionano con il culo. Cioè, per andare a contestare Microsoft perché mette certi giochi si contesta il gioco stesso, che magari però preso singolarmente è pure carino, solo perché tu volevi Jurassic World Evolution 2. È un po' come su Amazon contestare un prodotto perché è arrivato danneggiato. Il prodotto però com'è? Jess Sun, uno dei fondatori di Argonaut Software, ha rivelato che Croc, Legend of the Gobbles, sta per ritornare rimasterizzato in alta definizione. Ora, al di là dell'affetto che si possa provare per un gioco del genere, io ancora lo tengo custodito gelosamente tra i miei big box per PC di fine anni 90, però faceva un po' cacare a livello di controlli, a livello di game design. Fosse stato un remake, dico io, allora ok, avrebbero cambiato anche un po' di Cosma Remastered, così meh. E anche per questa settimana, in particolare questa settimana, con il motivo che questa settimana effettivamente è stato più difficile destreggiarsi e dribblare tutte le notizie relative a showcase, future game show, summer game fest e via dicendo, di cui abbiamo parlato in video dedicati, che trovate sempre su questo canale o con nostre reaction tra il canale delle live, quello viola, cioè Twitch, e Playernz i2. Per cui, insomma, è stato un attimo più difficile da gestire, per cui vi ringraziamo ancora di più. Questo è il particolare motivo per essere rimasti qui. Ci vediamo stasera, mi raccomando, con l'Xbox Game Showcase, che è forse lo showcase più atteso di quest'estate, visto che gli altri, anche perché già sono avvenuti, per cui sti cazzi. E rimane questo. E Starfield, caspita. Alla prossima.